Che l'Andrangheta calabrese abbia da tempo indirizzato i suoi interessi anche sulla Lombardia e su tutto il nord Italia non è certo più un mistero. Nell'ennesima dimostrazione l'ultima indagine in ordine di tempo, conclusasi oggi con 37 arresti eseguiti dai carabinieri del comando provinciale su richiesta della DDA di Milano. Da quanto si è saputo, l'operazione coordinata dal procuratore aggiunto, il da Bocassini e dai PM Alessandra Dolci e Cecilia Vassena, ha portato in carcere tra gli altri Ulisse e Panetta, presunto boss dell'Andrina locale di Giussano, e alcuni appartenenti alle famiglie Cristello e Corigliano. Gli arrestati adesso dovranno rispondere di associazione a delinquere di stampo mafioso, porto e detenzione illegale di armi, usura e distorsione. Un'altra ennesima indagine però conclusa senza che ci sia stata alcuna denuncia da parte di imprenditori. Per paura o peggio, per omertà, anche in Lombardia, come segnala da tempo la stessa Bocassini, il lavoro degli inquirenti è reso sempre più difficile proprio a causa delle mancate denunce. In questo caso di grande importanza alle indagini sono state invece le dichiarazioni rese dal pentito Michael Panaglia, arrestato assieme ad un altro attuale pentito perché ritenuto uno dei responsabili dell'omicidio nel 2008 di Carmelo Novella, l'allora reggente delle endrine operanti in Lombardia. Con le sue parole Panaglia avrebbe svelato in particolare le attività delle cosche Lombarde a partire dall'estate del 2010.